Le caratteristiche di questo cane, perché lei ha scelto questo cane e non per esempio un chihuahua? Perché il cane è perfetto per un uomo. Ovvero? Ovvero è semplicissimo, poi affettuoso, molto cordiale con la gente. Ma dicono che questi cani sono feroci? No, no, assolutamente no. Nego, nego, nego. Perfetto, lei arriva da? Da Rosolini. Ah, ecco. È un originario di Pachino, lei comunque c'è la cura mio papà. Ecco. Allora, la ricompensa è tutta per mio papà. E allora gioca in casa il nostro amico con il suo, dopo che si chiama? Scusa, ho dimenticato? No, è femminuccia. Atena. Atena, ok. Guardate questo cane. Le cose sono due. O è molto vanitoso o vanitosa. Vanitoso. O altrimenti ha avuto un incidente al collare, però siccome doveva fare la mostra del cane e se l'è coperta. Ma conosciamo il padrone che ci svelerà il segreto. Intanto come si chiama lui? Franginis Romeo. E tu sei? Tonino. Da? Avola. Da Avola. Allora, perché sta sta cosa qua? Per non raccogliere la sforcizia, solamente. Ho capito, ma così gli copri le orecchie, giusto? Copri le orecchie, così non si bagna e non raccoglie nemmeno l'erbaccia. Ai fini curativi, diciamo. Se non sbaglio non è la prima volta che partecipa alla mostra del cane? No, ogni anno. E quest'anno che aspettative abbiamo? Quelle degli anni passati. Cercare di portare un ottimo premio a casa. Grazie ancora. Allora, guardate che splendido esemplare di boxer che abbiamo qui. Come si chiama? Taco. E arriva da? Pozzallo. Da Pozzallo. Lei è? Conci. Conci, la padrona mi immagino. Padrona. Ho capito. Perché ha scelto di venire qui alla quarta mostra del cane? Perché intanto per farlo conoscere e poi perché è una bella esperienza da provare. Non per vincere? No, assolutamente, partecipare. Se vuoi vince bene, anche quello. Mi dice, generalmente, le caratteristiche del boxer. Se dobbiamo convincere gli amici di Canale 8, per esempio, ad acquistare un boxer e non un altro cane, perché devono acquistare un boxer? Allora, perché è bello e non è brutto, come dicono. È bellissimo, è bravo, è giocherellone, è tranquillo, lo porti ovunque. Fa un po' di bava, però è bellissimo, il boxer è un amico per sempre, davvero. Ciao, Dago, vuoi dire qualcosa? Non vuole rilasciare dichiarazioni. Vi ricordo che la quarta mostra del cane quest'anno dedica uno spazio particolare ai pastori tedeschi. Perché? Perché andiamo a ricordare un grande amico, l'amico di tutti qui a Rosolini, che è il nostro Barti Pitrolo, un amante dei pastori tedeschi, col suo asso, che purtroppo non è più con noi. E quindi quale miglior modo di ricordarlo, se non dedicando un premio particolare alla razza del pastore tedesco? E qui abbiamo uno di quelli che è in pole position per vincere questo memio, Carl. Noi vogliamo parlare, chi è questo splendido esemplare? No, praticamente lui è figlio di Cuollo di Casanobili, per gli indentitori che si intendono di pastori tedeschi e di Sass. Suo papà è stato per Antonio Masi il pastore tedesco. Ora negli ultimi tempi è nato Vegas, ma Casanobili si è sempre distinto nella disciplina del pastore tedesco. Lui è un figlio di Cuollo di Casanobili. Voglio dire, io mi ci sono affezionato, è bello, però voglio dire, non è un cane da dieci allote. Perché qualcuno che mi sente dice, come Pippo va a propicizzare il proprio cane, però voglio dire, mi ci sono affezionato. E posso dire che il pastore tedesco è appunto proprio il cane per eccellenza, questo. Forse perché io proprio sono appassionato del pastore tedesco. La domanda che faccio a tutti, perché lei ha scelto il pastore tedesco e non un'altra razza di cane? Ma la genetica ci insegna che ogni razza di cane ha le proprie caratteristiche. Se ho bisogno di difendere una propria età, scelgo il Doberman o il Rottivale. Se io voglio un cane che impari subito, un cane che mi ascolta, un cane che obbedisce ai miei comandi, allora prendo il pastore tedesco. Se voglio un cane da compagnia, magari prendo qualche altra razza. Il pastore tedesco è per questo, ecco. Però voglio dire che, signor Pippo, lei si addice che il pastore tedesco... Guardi, mi faccia una passerella, proprio è portato lei per il pastore tedesco. Grazie, ci vediamo più tardi. Allora, c'è qualcosa che non va in questo cane? È bello. Ah, il muso è un po' schiacciato, come mai? Ma che il muso è schiacciato. Perché è un bull terrier e si sa che i bull terrier sono, diciamo, che sono... È la razza, è la razza. La caratteristica, come si chiama questo bull terrier? Rudy. E arriva da? Messina. Però voi siete di? Rosolini. Rosolini. Perfetto. E ditemi una cosa, che aspettative abbiamo per questo Rudy? Vinciamo o non vinciamo la quarta mostra? Vinciamo, vinciamo. Primo posto. Primo posto, grazie. Ah, no, no. Scusa, scusa. Ma stai da me ti sentivo preso per il pelo di un cane. Chi sei? Mariana. Da dove vivi? Pozzallo. Da Pozzallo. Che cane oggi porti qui alla mostra? Passare a tedesco. Si chiama? Aaron. Inquadriamo Aaron per bene. Non ci sta, fermo. Aaron, vuoi dire tu qualcosa, Aaron? No, lo vuole mangiare. Grazie, buona fortuna per questa gara. Io ti chiamo Vinuso. Come? E allora, come si chiama questo cane? Piluso. Piluso. Sì. E perché? E perché è spizze. E spizze perché ha tanto pelo. Sì. Ok, da dove arrivi? Di Paggino. Ok, tu ti chiami? Fabrizio. Grazie, Fabrizio. Allora, se vogliamo dare il premio per il cane più vanitoso, certamente questo è uno che potrà vincere. Ci presenti questa, che cos'è, una signorina? È una signorina, si chiama Dancing Queen del Pensiero Stupendo, è una Yosher Terrier di due anni. Perché la sta facendo così bella? Ma così, è abituata a essere così sempre bella, per me la faccio bella, siamo in un'esposizione di bellezza, quindi le tocca. Lei da dove arriva, signora? A Cireale. Grazie. Prego, grazie a voi. Questi splendidi esemplari dagli occhi azzurri, che razza sono? Sibiera Naschi. E arrivano? Da Vittoria. Lei è il signor? Di Gabriele Giovanni. Ma dica una cosa, questi cani parteciperanno oggi alla mostra? Sono piccoli, non penso, saranno fermi, c'è la nutella che li faccio partecipare, anzi stanno facendo solo una passeggiata così e basta. Le faccio una domanda da ignorante. Questi, se non sbaglio, sono cani che abitano in luoghi freddi? Da neve, sì. Però ormai sono abituati qua, nelle nostre zone, cercano sempre il fresco, però noi dobbiamo accontentare, cerchiamo di mettere sempre la parte di fresco perché soffrono. Poi di solito escono loro, si fanno la camminata alla sera quando fa più fresco, infatti sono cani come i lupi. Lei ha portato solo i figli o c'è pure la mamma in giro? No, purtroppo ho portato solo i cuccioli perché sono da solo, non è che posso fare una mano, una mano. Fanno loro il loro spettacolo già. Sono stupendi, la ringrazio. Questo credo che sia l'unico esemplare qui alla quarta mostra del cane. È una razza molto particolare e ce la spiega il suo padrone. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del toy russo. Cosa si dice? Grazie dal 2006. Ma mi dica cosa, che difesa c'è tra un toy russo e un semplicissimo chihuahua? Chihuahua. Allora, guardando il cranio, guarda qua. Questo è più prolungato, le zambe sono più lunghe, è più esile. E caratterialmente? Buonissimo, buonissimo. Ma è come chihuahua che abbaia, 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 no? Assolutamente no, assolutamente no. È un cane docile, proprio bravo, bravo veramente. Da dove arriva lei? Adrano, provincia Catania. Mi sembrava dalla Russia, ha visto. Questo viene dalla Russia. La ringrazio. E visto che la quarta mostra del cane è una mostra di bellezza, e visto che fra un po' iniziano i cani a spilare, qui stiamo dando gli ultimi dettagli di quella che si chiama in gergo tecnico la tolettatura. Siamo con questa splendida signora che è? Andrea. 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 Intanzitutto parliamo di questo cane, che razza è? Carry Blue Terrier. Come? Carry Blue Terrier. Carry Blue Terrier. Carry si mangia il carry? No, no, no. Da dove arriva sto cane? Irlanda. Dall'Irlanda? Sì. Cosa sta facendo in questo momento? Ci spieghi, per essere il cane bello lucido, pronto per sfilare, le due cose più importanti che bisogna fare prima di partire? Ristrutturare il pelo e spazzolare. Ristrutturare il pelo, come parla tecnica? Cosa significa? A spruzzarlo con un bifasico. A spruzzarlo con un bifasico? Cos'è il bifasico? È un ristrutturante. Certo. Per idrattare il pelo. Ho capito. Questo cane è suo? Sì, sì. Per dare volume di sotto. Perché hai scelto questo cane irlandese? Perché mi appassiona. Ora facciamo finta che siamo in finale. La posizione che deve prendere il cane, che si chiama? Kerry Blue. La razza. La razza, Kerry Blue. Come si chiama? Betta lei. Betta? Sì. Allora, siamo in finale. Vediamo come si mette Betta. Betta, non mi far fare brutte figure. Betta vuoi vincere? Betta vuoi vincere? Grazie Andrea. Tutti i cani che ci sono qui alla mostra del cane, credo che questi arrivano da più lontano. Perché questi sono due splendidi esempi di... Ciao ciao. E arrivano... Io vengo da Scoglitti. I cani sono due splendidi esempi di... Ciao ciao. La razza arriva... Dalla Cina. Dalla Cina. Ma come comunicate con questi cani? In cinese. E tipo se per dirgli a cuccia in cinese? Ni hao. Per dirgli attacca in cinese? Shaolin. Mi stanno prendendo in giro. Ma ditemi una cosa. Perché avete scelto questi cani? Lo chiedo a te. Per il temperamento, per un discorso di estetica. Sono cani molto buoni, molto socievoli. Però a volte anche un po' scontrosi, anche con i padroni diciamo. E la preparazione per un cane del genere? Prima di uscire, bello pulito, per una mostra o per una passeggiata, quanto tempo ci vuole? Beh, dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora sicuro. Io so che questi cani hanno una caratteristica. La lingua blu. È vero? Sì, sì. Si può anche vedere. Vediamo, vediamo. Facciamo gli usciti. Ecco qua. Perché la lingua blu? Ma i detti sono molti. Si parla addirittura che c'era un famoso pittore all'epoca che mentre dipingeva un quadro c'era della vernice blu che gocciolava. Il cane è andato a leccarle e quindi si parla di questa storia qui. Però non è detto. Non ci sono fondi attendibili su questo. Non si sa l'origine vera e propria, ma ditemi una cosa, quale fra i due è più bello? Il suo. Per me è il suo. Chi vincerà? Lui. Vabbè, vedremo, vedremo. Ok? Questo è un cane particolarissimo. Ma che esemplare è? Cane crestato cinese. Cane crestato? Mai sentito fino ad adesso? Crudelia Demon. Ecco che lo ve l'avevo visto. Ma lei non è Crudelia? No, no, almeno. Penso di no. Esatto, è una mostra del cane, Crudelia Demon, scappano tutti. Ma perché ha scelto questo cane? Credo sia rarissimo. Sì, abbastanza raro, soprattutto dalle nostre parti. E niente, è stata una scelta diversa dal solito. E poi è un cane da un carattere stupendo. E niente, lei già si gira. Ci siamo innamorati di sta razza particolare. l'abbiamo scelta. Da dove arrivate? Noi arriviamo, no, da Sigli. Cioè, sempre vicino, diciamo. Come si chiama lei? Nura. Nura. Di nome e di fatto. Grazie. A te. Guardate attentamente gli occhi di questo cane. Vediamo se si... Vediamo. Intanto che razza è? È un corso. Si chiama? Oliver. E arriva da? Da Avola. Da Avola. Perché hai scelto un corso? No, qui c'era proprio l'aria. Ah, signora, perché hai scelto un corso? Io non amavo gli animali, mi sono innamorato di questo batuffolino perché me l'hanno regalato che era un batuffolino. Era un batuffolino? Sì, e quindi uno vale l'altro. Mi hanno regalato lui e lo adoro. Io non amavo i cane. Fino all'11 marzo mi chiedevo, ma i veterinari lavorano? O sono disoccupati perché non ho mai avuto rapporti con gli animali. Poi, casualmente, mi ritrovo con lui e... E' nato un amore. Mi pento di non aver avuto prima l'opportunità di amare un cane così. Quindi il messaggio che possiamo lanciare è che anche quando si è grandi ci si può innamorare dei cani, non soltanto da bambini.